Un incontro sul bullismo e cyberbullismo per gli alunni della scuola primaria affinché possano usare consapevolmente le nuove tecnologie. L'iniziativa si è svolta presso il Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli e organizzata dall'Istituto Comprensivo Agropoli San Marco in collaborazione con la Polizia di Stato, Questura di Salerno e patrocinata dal Comune di Agropoli. Parlare di bullismo e cyberbullismo con i bambini della scuola primaria non è un argomento semplice e di facile comprensione perché comunque parliamo di bambini di un'età che vanno dai 6 anni ai 10 anni quindi sono ancora in quell'età dell'ingenuità, dell'infanzia quindi non hanno ancora quella malizia e quella praticità che hanno magari i ragazzi più grandi nell'andare nel web soprattutto. Però comunque il fatto che hanno un'età così giovane non vuol dire che non usino le nuove tecnologie, non vuol dire che non abbiano il telefonino, che vadano su internet anzi c'è anche qualcuno che ha addirittura un profilo in un social network e quindi noi a scuola cerchiamo di parlare a loro e di spiegare soprattutto di insegnargli un uso, cercare di insegnargli un uso consapevole delle nuove tecnologie, l'uso consapevole di internet perché quello che noi possiamo immaginare che ci sia al di là dello schermo molte volte non è la realtà. Anche oggi un incontro per parlare con i ragazzi, con i genitori, con gli insegnanti del cyberbullismo e del bullismo in generale. L'utilizzo dei telefonini non ha purtroppo soltanto aspetti positivi ma anche tanti aspetti negativi. Allora prima noi genitori e poi i nostri figli dobbiamo cercare di imparare aututilizzarlo e stare attenti soprattutto a quelli che possono essere i problemi che ne derivano. Quindi secondo me è un argomento molto importante, un argomento che va trattato, che noi trattiamo oggi in questo ottimo incontro organizzato dal secondo circolo delle scuole primarie ma è un incontro su cui dobbiamo implementare i momenti di discussione perché come ho detto è un argomento diciamo di grande interesse e che assolutamente dobbiamo conoscere in maniera approfondita per poterlo gestire e fare in modo che gli aspetti negativi vengono gestiti e limitati al massimo.